Chiara, dove hai nascosto la mia armatura? Eh, la devi trovare Ah, che pizza però Mamma mia, con questa introduzione molto bella tunisiana Iniziamo questo video Come sempre Beh, allora, no, scusate Praticamente questa è la caccia al tesoro Fuoco, acqua Sì, è bellissimo Esatto, adesso questa è la direzione in che... Dimmi un po' Acqua, fuoco Acqua, ma non... No, allora Facciamo una cosa Prima di iniziare tutto questo coso Parlate bene, parlate velocemente Va bene E non fate queste cantine Ma acqua Ma non troppo Perché se no E nemmeno i versi strani, indemoniati Ok Allora Già c'è tanto rumore sottofondo Quindi questa cosa non va bene No Stai fermo e stai zitto Allora Chiara, dimmi La direzione è quella Ok, è questa Perfetto Acqua Però qui è acqua Ok, quindi non fuoco Quindi se io vado da questa parte No, è acqua fresca E qua? È acqua ancora Mannaggia Tanto oceano proprio Tanto oceano Invece qua magari potrebbe essere assolutamente E lì è un po' più caldo E per riscaldarsi E No, no Qui si raffredda E che pizza Da questa parte forse E qui è fuoco Fuoco Quindi l'hai nascosto qua dentro Fuoco pochissimo No, non è vero Ma l'hai nascosto qua per forza No, no, no Non è vero Non è vero Scherzavo Come, come non è vero? Tu hai usato ingannare Tu hai usato Schifo Adesso Ti tiro le uova Allora No, ho lanciato il mio piccone Vabbè No Meglio così Ditemi un po' quindi Vabbè Da questa parte fuoco O acqua Ehm L'acqua un po' più calda Ok, quindi da questa parte invece No, ti l'hai proprio acqua fredda Oh, che pizza Da questa parte Ma dov'è allora No, quella parte Ok, perfetto Allora, vediamo un attimo Donizieni Il villino Eh, hai visto, Angelo È proprio così Dobbiamo Devo scoprire dove si trova la mia armatura Perché senza di essa Io purtroppo non posso vivere Perché i mostri mi uccidono Eh, esatto Ah, mannaggia i mostri Ah, da questa Ehi, il fuoco Cosa hai fatto? Me ne asso sta qui Sei stata molto brava, devo dire Grazie, grazie Non troppo, non troppo Però adesso è colpa tua Cioè, nel senso Devi darmi le tue cose Cosa ho detto? È colpa tua Ehm Cosa ti do? Dammi Allora, prima di tutto Vieni da questa parte Perché ci sono gli animali Che fanno un casino Ma uno di quei casini Eh, purtroppo Fanno dei versi Porca miseria Sì, sì, sì Allora, dammi Cosa vuoi che ti do? Allora, dammi Non lo so Una cosa E anche l'armatura Sì, sì Dammi l'armatura E soprattutto Parla forte Sto parlando fortissimo Eh, che schifo Copritelo di diamanti Oh, grazie, grazie Ho pure fatto l'advancement Come avete ben visto Vabbè Sempre una cosa in più Me ne vado Forza, sì, sì Assolutamente Devi andare lì E metterti con la testa Contro il muro Molto bene Vado a sbattire la testa al muro Sì, sì, sì Fai bene, fai bene così Sbatti la testa contro il muro Io intanto devo andare A prendere una cosa Tipo una cesta Perché chiaramente Poi magari se non c'è Ok, le avevo nascoste qui le ceste Che io personalmente Ho messo Sì, sì, sì Perché io nascondo pure le ceste Non solo È soffrezione Sì, sì, assolutamente Esatto, Gabri Probabilmente così Porca che miseria Invece Hai vinto Allora Invece Ah, me la mettiamo qua Mi raccomando Voi fate attenzione Eh, non facciamo Troppo gli schifosi E non cerchiamo di nascondere Tutte le cose Oh, là come va, chiacchiera? Mi permette Tutto a posto È sempre È molto bello questo muro Ah, è vero che è bello Soprattutto da osservare Vorresti leccarlo, eh No, no, no Quello non ci tengo Sinceramente No, no, no Senna me ti piacerebbe Leccare il muro, eh No, guarda L'ha già fatto Gabri Quindi io non ci tengo Che schifo No, che schifo Eh, mamma mia Vabbè Mi dispiace, Gabri Che tu abbia queste passioni Ma purtroppo Cosa? Forza, girati Occhiachira Posso? Certamente Ciao Oddio Ti spavento Questo è stato fatto Allora, forza Inizia a scegliere una direzione Noi ti diremo Se fuoco, acqua, aria, vento Oppure ghiaccio Direi, direi acqua Qua sì, assolutamente terra Ok Esatto Acqua, proprio fuoco Porca miseria Un fuoco che Si sta intensificando talmente Tanto È il tornado di Silente Questo È proprio Un fuoco qua Che La troverai sicuramente Chiara Sì, sì Tu cerca, cerca Come sì, sì Cioè, sì È proprio Sì, cerca Chi cerca Trova Fidati Hai perduto i diamanti Allora, non ti permetterei mica Anche perché sono Giusto pochi 15 Signor cane Puoi stare Dito un attimo Quello è strisza la pizza Tunisiani Secondo me Sono pronto ai miei Sei stack di diamanti Non sono tuoi Ma sono di Angeli Ha trovati tutti lui Quindi Esatto Sono pure miei Cioè, mio è mio Cioè, che su è mio Questa cosa è molto Fraintendibile, Chiara Ti rendi conto, vero? Qua, diciamo che Vabbè, insomma Comunque vai Scegli un posto Scegli un posto Magari non lì Dall'Angelo Diciamo Non il posto di Angelo Insomma Io Eh, tu Vabbè, sì Io non so che pensare Hai visto Angelo? Eh, comunque qua Assolutamente fuoco Un fuoco Che porca miseria Qui c'è una porta aperta Il tornado Eh, sì Perché l'hai lasciata tu prima aperta Mamma mia Dai, vabbè Qua è acqua Forza Insomma Devi scegliere un posto Acqua, acqua Ghiaccio proprio Gelido Pem Mamma mia Ok, qua l'acqua Inizia un po' ad intensificare Cioè, nel senso No Fuoco Fuoco All'acqua No, no, no Ho sbagliato Scusa Acqua Acqua Non fuoco E' confondibile Dunisiani Acqua E' troppo confuso Troppo confuso Ok, qua l'acqua diventa un pochino più No, acqua Nel portaggio segreto No, acqua Acqua Come puoi vedere Tutta acqua poi Fra l'altro Acqua Acqua E qua inizia l'acquolina Un po' più caldina E direi che è abbastanza Che stai ridi No, Angelo Non pensare male Che schifo Sì, ma lui pensa sempre male Acqua Acqua calda direi Qua acqua calda Devo nascondere E poi non darmi troppo Perché sennò Chiara qua si ingelosisce Perché Cosa, no? Eh, sì, sì Si assoluta Ah, ho preso tutto Allora Ti nascondi No, no, no Scherzavo E' il mio turno Secondo me Allora No, no No Il mio turno Sarà per ultimo Dunisiani Va bene Va bene Quindi Esatto Tu vai a nasconderti Cioè, insomma Non nasconderti Allora Sì, io stavo andando Insomma, hai capito, no? Bravo, bravo, vai Ma Dennis Ma questo video Non è più Caccia al tesoro È troppo all'armatura Vabbè Questa è la cosa più preziosa, no? Una delle cose più preziose Che avete Quindi è meglio così Senti, Angelo Continua a ridere Oggi è la fine per Ancio Sì, esatto Non riesce a contenersi Mi sa La tua acqua tiepida Cosa? Cosa? Eh, Angelo A volte No Eh Però si sente che è felice Secondo me Angelo È tipo talmente tanto felice Per questa cosa Che ha detto Chiara Che Capito? Cosa ho detto io? Cosa ho detto? Vabbè No, niente È la cosa di prima Che è da lì Che inizia a ridere L'acqua tiepida Cosa? L'acqua tiepida Di chiacchiera In realtà Cosa? No, aspettate C'è qualcosa Che non c'è Vabbè Dai, forza Chiaro Sei rimasto indietro Che cucciacchiona Che sì Cosa ridi? Eh, sei una lumaca Allora Ok, perfetto Angelo vai Decidiamo Però Angelo Ha già visto Da dove arriviamo Ho visto che stava Tipo dal cosoroso Stava Al cosoroso Vabbè Tanto sarebbe andato qui No, acqua Quindi Infatti, infatti Non è esatto Vai, vai, vai Forza Allora, vai Allora, qua inizia sempre Dal lato rosa Esattamente Esattamente Ok, qua sempre un pochino Più tiepida L'acqua Dai Sotto? No, no Non è lì sotto Scherzo Ok Gabri dice solo cavolate Comunque Gabri Di imparare con me Ok, qua l'acqua diventa Un pochino più tiepida No Ok, acqua tiepida Direi Tiepida ma fuori Non dentro casa Esatto Allora Allora Acqua tiepidina Devo dire Però sempre Contenuta Angelo Non è là Contenuta Esatto Acqua tiepidina Ma non troppo L'acqua inizia un po' A diventare un po' più tiepida Devo dire qua Acqua tiepida Acqua calduccia Un pochino più sul caldo Esattamente Bravo Chiara Calduccia Calduccia Calda Fuoco 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 Ma è stupido Acqua calda Adesso Acqua calda Acqua calda Acqua calda Acqua fredda Acqua fredda Sì Qui proprio Stai in danno Cioè Ok Acqua Fuoco 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 Luniziani qua è difficile Perché mi rendo conto che Sempre fuoco Acqua fuoco Perché Purtroppo Però bisogna dare Le indicazioni a questi scemi Fuochissimo Tornado di fuoco di Sirente Ma non lo vede Ma è stupido Fuoco Ah ma Eeeh Angelo Mi fai dire Tipo 30 volte fuoco in un video Sì esatto Diventa molto bello Questo video Manca un pezzo Manca No che cos'è No non manca niente Chi è che ha rubato cosa? Chiara Chiara Che schifo Che schifo Allora Adesso mi prendo la mia cesta bellissima E tocca a me Per l'ultimo turno Forza Allora Io me ne vado di qua Tranquini tranquilli Dacci la cosa Che rottura di palle Forza Una cassa E' vero data E' lì Con gli omberi Per non Nasconderemo La cassa Esatto Allora Intanto Doniziani Vi racconto le storie Ah ma non c'è la tua cosa Che dobbiamo nascondere Eh esatto Cosa nascondiamo La cassa Beh allora Allora io adesso faccio Slash Invesi E vi metto Vi metto la cosa Proprio lì Però Invesi Te la metto a te Chiacchire Va bene Allora Ti metterò il ferro Che è la cosa più preziosa Che in questo momento Che tristezza Che tristezza È perché io Ho poco tempo Per giocare Duniziani Però intanto Come al solito Ci facciamo il viaggio Nel bioma Dell'attendimento Nel bioma Dell'attendimento Eh questa è un po' complicata Un bel bioma Allora Eh sì sì Complicata Io poi vado in spectator E No che schifo Non si fa Eh beh sì sì Vado in spectator Fra poco io Guardate che Per trovare le cose Duniz deve Deve andare in spectator Perché Duniz È proprio schifosetto Ah comunque Se vedete questa casa qua Ma tu sei schifosetta In realtà Lo sanno tutti Ma quale cari Cos'era A parte Fermi un attimo Perché state parlando Tutti quanti da imbecilli Cioè cos'è successo A parte Angelo Cos'è successo Siete diventati deficienti Oppure dovete parlare Come di deficienti No no siamo bravissimi Ok allora parlate forte Per favore Sì Gabri come lo so Devi parlare velocemente Va bene Ok perfetto Ma dove sei Scusa Io ve l'ho detto Sono nel bioma Dell'attendimento Perché sono andato A far vedere Ai Duniziani Un attimo Questo bioma Dei fiori Dietro La casa di Gabri Ah Capito Capito Questi amici però Sono un po' deficienti Di un disegno Vi consiglio Di non averli Cioè nel senso Scegliete bene I vostri amici Mi raccomando Scusa Allora ma siete pronti o no Ah eccovi qua Ecco no perché Non vi vedevo Quindi ho detto Vai vai Ok allora vai Ditemi Vai Prima di Verso il fuoco Ma non mi trovo Verso il fuoco Allora Vi devo spiegare Come funziona A parlare Oppure sapete Cioè bisogna avere No no sappiamo Sappiamo Ah oppure si deve Si deve spiegare una parola Si devono dire bene Si spiega bene Ok bene Quindi questo è verso il fuoco Mi dite Si però Un fuoco un po' spento La cantilena Chiara Eh la cantilena Un fuoco un po' spento Ok quindi Da questa parte No e ora Allora ti do un indizio Dentro le case C'è solo acqua Ah bene Grazie per questo indizio Molto utile E no lì è acqua Andando verso No Ah che cosa Ah che cosa Invece qua Acqua 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 Ma sera Invece qua Sì vabbè Temporale nell'oceano Ma scusate ma Allora qua è verso il fuoco Giusto Verso Sì Ok Ma non proprio No qui acqua Vai No Ma dove vai Era verso il fuoco Ma non era fuoco Ok allora quindi Da questa parte no Diciamo di sì Ok perfetto Allora Doniseni Questa cosa è molto Deficiente Eh no Ti stai lontanando Ok due pa Allora No è lì no Lì è ancora peggio Da questa parte Sì Vai vai Ok però potete Gabri non urlare Devi parare velocemente Non urlare E aprire bene la bocca Eh proprio Ok vai Pochino No che pochino Non pensa male Ok perfetto Dimmi dimmi Da questa parte Vai verso il fuoco Ah ok perfetto Fuoco Eh sì Eh sì Eh qua Eh Eh Era questa la cosa difficile Cioè veramente Mamma mia che difficoltà Allora Devo dire Doniseni Che è stata Una bella giocata Una bella partita Una bella partita Da acqua a fuoco Caccia al tesoro Wow wow Ancua a fuoco Caccia al tesoro Fa pure rima Sono pure un rima Aciolo Quindi Donisiani Eh direi che Eh questo video Può finire qua Eh iscrivetevi a questo canale Iscrivetevi a creatura Dell'universo maligno Iscrivetevi Voi siete le creature bellissime Quindi iscrivetevi anche voi E lasciate il like E commentate Con patata l'ercia Nei commenti È molto Una cosa molto utile E quindi noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao